I giorni scorsi i detenuti di Sulmona lanciano un messaggio, noi restiamo in cella ma voi state a casa. Elena Fusai. Grazie a tutti voi che ogni giorno venite a lavorare e tutelate la nostra salute. I detenuti del carcere di Sulmona si rivolgono con queste parole a chi in prigione arriva per svolgere il proprio dovere. Agenti, medici e volontari. Eroi li definiscono in questa lettera che racconta un'altra storia distante anni luce dalle rivolte scoppiate dietro le sbarre dopo le restrizioni per contenere il dilagare del coronavirus. È il senso civico dei detenuti che fa esprimere loro solidarietà con il personale penitenziario perché, precisano, uniti si sconfigge il virus. Capisco le difficoltà di chi, a causa delle misure adottate contro l'epidemia di Covid-19, non può ricevere le visite dei propri parenti, fa sapere il garante per i diritti dei detenuti Palma. E assicura, in dotazione negli istituti arriveranno cellulari per aumentare le possibilità di colloqui. 1.600 telefonini sono già stati messi a disposizione da Tim. Noi restiamo in cella ma voi restate a casa. Il messaggio che hanno appeso anche alle sbarre di Sulmona andrà tutto bene. Si parla spesso del cosiddetto modello.